ciao del mio Reiki in questo video ti voglio parlare di una meditazione molto semplice basata sul respiro e su alcune frasi interessanti che dovrei ripeterti durante questa meditazione appunto del respiro ma prima di tutto mi voglio presentare come sempre mi chiamo Renato Tatasciore e pratico Reiki da 23 anni e dal 2004 lo insegno in qualità di Reiki Master e sono di aiuto e di sostegno per tutte quelle persone che soffrono di depressione ansia e attacchi di panico ma veniamo alla meditazione di oggi questa meditazione molto potente che andrà a rincuorare possiamo dire così il tuo cuore a ristorare a rimettere un po' posto il tuo cuore andrà a calmare la tua mente e andrà diciamo a ricollegarti con la tua anima una meditazione molto semplice ma molto potente come detto quindi ti metti in un luogo dove sai che non sarai disturbato per almeno dieci minuti incominci semplicemente a portare la tua concentrazione sul respiro e quindi inspiri e inspiri finché non sentirai la calma arrivare a te dopo qualche minuto praticamente quando inspirerai quindi porti dentro di te mentalmente dirai ravvivato da te cioè da te cosa dal respiro ok e quindi penserai quindi potrai scusa dirlo sottovoce ravvivato da te e quando butterai fuori l'aria quindi sarei nella fase dell'espiro dirai via da me via da me che cosa beh tutte quelle cose pesanti quelle cose che durante la giornata ti hanno dato fastidio e non solo e quindi inspiri ravvivato da te come una sorgente pura no il respiro e quando espiri che butti fuori via da me e lo fai per almeno dieci minuti e vedrai che sentirai proprio una gioia nel cuore vedrai che con il respiro così profondo con questa e con queste due semplici frasi anche i tuoi pensieri si calmeranno e ti troverai alla fine di questa meditazione come dico io un po' più vicino alla tua anima per oggi è tutto se ti è piaciuto il video sempre un bel mi piace se pensi che questa meditazione possa essere d'aiuto a qualcuno che conosci beh condividi pure il video mi farà un immenso piacere mentre invece se non conosci i reiki o se non sai come meditare perché comunque nel reiki io insegno come fare delle meditazioni semplici per iniziare la tua via spirituale che è quello che reiki una disciplina spirituale vai sul mio sito il mio reiki.com dove ti spiego passo passo come come iniziare questa via del cambiamento e per oggi è tutto quindi ricordati respira bene ricordati di te e ricordati ogni tanto anche di stare in silenzio e alla prossima